Il peggior servizio che si possa rendere a Dio e anche all'uomo è di pregare stancamente, in maniera abitudinaria. Pregare come i papagalli. No, si prega col cuore. La preghiera è il centro della vita. Se c'è la preghiera, anche il fratello e la sorella diventano importanti. Anzi, anche i nemici.